Incontriamo gente che è sempre più convinta che L'omologazione sia la soluzione per essere accettato da chi è con te E se ti azzardi a far qualcosa di diverso guai a te Sei trattato con disprezzo, non vedono il bello che c'è in te Pa, 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 pa Stop in there, stop in there L'omologazione è velocemente, devi solo realizzare tutto quel che inventi C'è chi fatica ogni giorno ad essere quello che non è Non ha fiducia in se stesso, la verità tu sai quale Cosa sia davvero giusto, cosa piace proprio a te Cerca la tua libertà, chi ti è stessa un po' di più Pa, 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 pa Stop in there, stop in there L'omologazione è velocemente, devi solo realizzare tutto quel che inventi Stopping Den non vuol dire rifiutare i consigli costruttivi di chi è vicino a te Ma non rinunciare mai e poi mai alla tua volontà Grazie Daniel per questa verità Stopping Den, Stopping Den Il modo passa velocemente, devi solo realizzare tutto quel che inventi